bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video foresta foresta e minchia mille per la robin hood è molto bella è molto bella robin hood robin hood robin hood signori la robin hood beh promette bene questa robin hood promette bene si può fare per chi non la conoscesse la robin hood mi obbliga a vincere solo con gli archi robin hood robin hood robin hood peschiamo servono cure rapide e istantanee stiamo pescando molto bene e anche molto velocemente allora vincere con la robin hood è impossibile raga cioè non è impossibile è molto difficile servono ma io sento i rumori figa ma posso già potenziarlo no perché non è questo no questo è quello con o una tannica di benzina o le luciole lo voglio fare lo voglio fare incendiario lo voglio fare incendiario che secondo me scassa abbastanza la minchia direi che possiamo anche fermarci dalla pesca per adesso tirami sull'ultimo flopper e mi fermo adesso si trovano gli oggetti ed eventualmente un altro arco è fattibile signori è fattibile non è molto lontana la safe ma è meglio raggiungerla servono delle luciole lo farei veramente incendiario è quello che dà più fastidio anche quello scorre in giovane da fastidio è questa cosa faccia olana finché l'arco esplosivo faccio esplosivo lo faccio esplosivo lo faccio esplosivo raga faccio un arco incendiario un arco esplosivo forza 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 non ci sono neanche raga sono rovinato sono rovinato prendi le parti meccaniche prendi le parti meccaniche abbiamo quattro perfetto basta una tannica di benzina giusto anche dovrebbe essere qua dietro una tannica di benzina vai 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 19 dardi su un arco incendiario per la robin hood non è male non è male togli ancora uno è bella lontana è bella lontana potenziamo l'arco meccanico un altro impulso che cosa c'è sono le ranelle c'è l'impulso no ragazzi è un impulso un impulso veramente oh my god signori io non lo vorrei dire ma qua la situazione sta migliorando con questo spari con questo incendi facciamo il contrario con questo ti spari via e con questo incendi si può fare si può fare la robin hood perché sono in due perché sono in due che non si stanno sparando signori c'è un problema la robin hood si sta nel vincere solo con gli archi 31 dardi al massimo mi mancherebbe l'arco esplosivo è veramente impegnativo da fare piano piano e sneaky appena si ferma per frecciarlo no 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 perché andiamo comunque un po di fastidio 68 bello bello questo 68 con calma con calma con calma davvero lo shot giusto bello questo 68 bello questo 68 andiamo 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 va bene così va bene così raga let's go let's go non incendia purtroppo lì tutto in pietra c'è un lama apri sto lama apri sto lama con calma signori con calma non è facile non è facile fare una robin hood ci ho provato questo non capisce un calma c'è le armi leggendarie c'è le armi leggendarie brutta con calma con calma 17 dardi 10 10 ragazzi è veramente difficilissimo raga 14 dardi solo dentro in cinque pazzi li abbiamo e mo come la ragioniamo come la ragioniamo io un'occhiata qua gliela do dei dardi fantastico devo essere il primo a sparare non posso farmi sparare non posso farmi sparare calma robin hood non è che si buttava sempre sopra le persone dalla gestiva macchina in arrivo oi capri a fuoco tutto 10 colpi sono predo fuoco purtroppo loro uno di uno uscio Sì Una buildare in metallo di brutto Dopo vi spiego perché Sì 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 È impossibile Sì 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 Sì